Forti raffiche di vento e nevicate si sono registrate la scorsa notte su gran parte della nostra regione e in vista del peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore il comune di Pescara ha già operativo per evitare i disagi. Ieri abbiamo dato già un primo segnale con i mezzi spargisale sulle colline pescaresi quindi Colli San Silvestro e Colli Madonna proprio per dare una migliore anche qualità nelle strade ai cittadini questa mattina al risveglio. Lavoreremo tutta la notte perché si prevede dal pomeriggio tardi, serata tardi che inizi a nevicare anche a basse quote quindi anche sulla città di Pescara. Abbiamo già contattato tutte le ditte che operano con il comune abbiamo pronte già 170 tonnellate di sale, ha aggiunto ancora l'assessore Tedoro a cui se ne aggiungeranno altre che abbiamo ordinato per arrivare a 300 tonnellate è un quantitativo che ci consentirà di affrontare e gestire al meglio l'eventualità che nevichi anche in città. La protezione civile attraverso le organizzazioni di volontariato sono tutte presenti e distribuite equamente sulla città proprio per dare una migliore assistenza alla popolazione. Assessore, con l'arrivo della neve arriva anche il freddo, il gran freddo come Giunta Comunale voi non avete dimenticato neanche gli ultimi, le persone più bisognose? Assolutamente no perché l'assessore Allegrino si è impegnata tantissimo per la risoluzione di questo problema e la Giunta Comunale ha trovato la migliore risoluzione nella ex scuola di Via Lago Sant'Angelo per cui questo ricovero per i senzetto che sono appunto al caldo che hanno un pasto caldo e che sono a riparo da ogni situazione spiacevole legato purtroppo al forte freddo. E su questo fronte è stata attivata anche la Polizia Municipale? Sì, la Polizia Municipale proprio per garantire un miglior controllo su quella parte di territorio sarà presente attraverso alcune pattuglie e diversi uomini proprio per garantire il rientro di queste persone con serenità e con la massima normalità senza creare alcun disagio né ai residenti né alla popolazione più allargata di quel territorio.